Ok, Scoop! È il momento di giocare al tuo gioco preferito! Indovina il rumore! Comincia pure, Bob! Cosa fa questo rumore? È un tagliarba? Più grosso! È una motrice che treina un rimorchio? Più piccola e ha un grosso tamburo rotondo nel retro che gira e gira! Lo so! È una vetaniera? Sì! È stata dura! Come il cemento! Tenetevi forte, gente! È il momento di giocare a... Indovina il rumore! Ascolta attentamente, Scoop! Cosa fa questo rumore? È molto rumoroso! Come scusa? Ho detto che è rumoroso! Sì, è vero! Allora, che cos'è? È il trapano di un dentista! No! Leo che sbatte i denti per il freddo? No! Ecco un indizio! Lo uso per rompere il calcestruzzo! Un martello pneumatico! Esatto! Cosa? Scusa, Bob! Non riesco a sentirti con questo martello pneumatico! Sono annoiato, Bob! Ti va di giocare a... Indovina il rumore? Oh, sì! Comincia, Bob! Ok, Scoop! Cosa fa questo suono? Ehm... È un aereo? No! Un raggio laser alieno? No! Rullo che rossa? No! Oh, è difficile! Dammi un indizio! Lo uso per tagliare il legno in varie forme! Oh! Un seghetto alternativo! Sì! L'avevo capito subito! Ma certo, Scoop! Indovina che ore sono, Scoop! È ora di giocare a... Indovina il rumore! Sì! Cosa fa questo suono? Una perforatrice? No! Oh! È un lanciapalli da tennis automatico? No! Chef Tato, che rompe le uova? Non ci sei neanche vicino! Ecco un indizio! È un attrezzo che uso per fissare il legno! Oh! Una sparachiodi! Giusto, Scoop! L'ho sparata e l'ho azzeccata! Ciao!